In meno di un mese ben tre sentenze confermano che il contributo di bonifica va pagato. I giudici hanno infatti dato ragione al Consorzio 2 Alto Valdarno condannando anche al risarcimento delle spese di giudizio i consorziati che contestavano la legittimità delle richieste consortili. Il caso più emblematico è rappresentato dal ricorso collettivo cumulativo presentato da 63 proprietari di immobili contro le cartelle emesse da Equitalia relativa ai contributi di bonifica per gli anni 2011, 2012 e 2013. Dopo aver incassato un primo parere favorevole i consorziati si sono dovuti arrendere di fronte alla Commissione Tributaria Regionale a cui il Consorzio ha presentato il ricorso e che alla fine ha dato ragione all'ente. Analoga e positiva la conclusione anche per il ricorso presentato dal Consorzio contro la sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale di Arezzo. In prima istanza infatti i giudici avevano fatto prevalere le regioni di un contribuente, sentenza capovolta da giudici fiorentini che hanno accolto le ragioni dell'ente condannando il consorziato a pagare il contributo maggiorato dei 200 euro per le spese del grado. La pioggia dei ricorsi falliti si è conclusa con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo a impugnare le cartelle per il recupero del contributo consortile relativa agli anni compresi tra il 2008 e il 2013 una società che contestava il beneficio oggettivo ricavato dal fondo di proprietà in seguito all'attività di bonifica, contestazione respinta al mittente. La sentenza ha infatti riconosciuto piena legittimità alle richieste consortili. Non nascondo la soddisfazione per le sentenze, ha spiegato il Presidente Paolo Tamburini. I pronunciamenti delle commissioni tributari regionali e provinciali hanno confermato l'importante ruolo svolto dal nostro ente che, attraverso il contributo richiesto ai proprietari degli immobili, svolge un'insostituibile azione di difesa idraulica in tutto il territorio ad esso assegnato, lavorando soprattutto sulla prevenzione.